Sono le studenti di università, di amica, di interno, del tesoro, del bilancio, dell'industria, della defesa e cinque volte al sedere del consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Il presidente di un sede, alla compagno e alla compagno, come si presenta il consul. Grazie per la visione!